Pedone E3, regina E1, cavallo H4. Cosa? A me piace giocare l'indiana, ma lui è esperto della semisha, allora... Chi? Spaschi, quindi forse è meglio la grunf, ma allora devo trovare una risposta a pedone F4. Sai, stavo pensando, sei riuscito poi a parlare con tua madre? Scommetto che è fiera di te. Ma... adesso devo rivedere questa. Devo lavorare a queste mosse, magari... Certo, sì. È stato bello anche per me. Grazie. Ah, sì, grazie a te.